Ciao a tutti, benvenuti, sono Davide Travelli alla Scatù Patagonia e oggi facciamo una recensione della bici, la Genesis Longitude. Avevo già fatto una recensione ma mi hanno chiesto di fare un update dopo 24.000 km, visto che la prima volta ne avevo parlati dopo poco più di 8.000 km, se non sbaglio, quando ero ad Arusha. Questa non è una recensione pagata ma non ho pagato neanche la bici, nel senso che quando sono arrivato in Patagonia dovevo andare in Sudafrica e ho venduto la bici che avevo, la Soli di Stracker, per pagare il volo a Città del Capo in Sudafrica e ho chiesto al negozio dove avevo comprato la prima bici se potevano aiutarmi a contattare qualche marca di bici per avere una sponsorizzazione. e loro mi hanno detto guarda non ti preoccupare una bici te la diamo noi, quindi gli amici di Bycafè che è un negozio anche online, bycafè.org di Torino, mi hanno regalato questa bici. Però non mi hanno chiesto niente in cambio, l'hanno fatto giusto per dare una mano, per darmi un aiuto in questa avventura. La mia è una Genesis Longitude del 2018, è praticamente identica a quella del 2019, hanno cambiato solo una cosa che sono i cerchi. I miei sono degli scraper, erano degli scraper i40, mentre sulla nuova bici montano dei cerchi, sempre scraper però i35, quindi sono 5 mm più stretti e secondo me questo potrebbe essere anche un vantaggio perché comunque sui cerchi da 35 mm puoi montare gomme che vanno da 1,8 pollice fino a 3 pollici e quindi è un vantaggio enorme perché è una copertura, hai molte più opzioni, mentre con i 40 e i 45 mm chiaramente parti intorno ai 2 pollici e 4, soprattutto su quelli da 45 mm che monto io. Sono fatti proprio per 2,8 pollici e 3 pollici, poi nell'emergenza probabilmente ci puoi mettere anche quelli da 2,4 mm. Poi comunque ne riparliamo dei cerchi perché ho avuto alcuni problemi quindi ne voglio parlare dopo. Questa è una bici da 27.5 mm plus, è una bici che pesa intorno ai 14 kg, un po' meno, 13,750 kg. È montata con una guarnitura Shimano Dior con una doppia davanti, 36,26 e un pacco pignoni da 10 velocità dietro da 11 a 40. Nella configurazione standard io ho cambiato, vabbè, ho messo dei pedali a doppia funzione, sia flat pedal che a sgancio rapido SPD. Ho cambiato la sella, ho messo una brook B17C e ho cambiato il manubrio, ho messo un Jones H-Bar e poi ho montato il portapacchi davanti che è un swirly disc tracker. È un swirly front rack. La bici viene in configurazione tubeless ready, ha un sacco di occhielli per mettere i portapacchi sia anteriore che posteriore, per mettere delle anything cage, per mettere dei porta borracce aggiuntivi. E viene anche con due gorilla cage, che sono praticamente delle anything cage da mettere sulla forcella. Un'altra cosa che ho cambiato sono i freni. C'erano dei freni idraulici e li ho cambiati con dei freni meccanici, freni a disco meccanici della Avid, i BB7 Rode, con cui mi sono trovato molto meglio rispetto ai BB7 normali che usavo sulla swirly disc tracker. Allora, abbiamo detto che questa qua è una 27.5 plus, però si possono montare anche delle ruote da 29 standard fino a 2.4 pollici di coperture. Che problemi ho avuto con questa bici in questi 24.000 km? Il problema principale che ho avuto è stato quello di rompere un occhiello dove si monta il portapacchi anteriore. E quello è stato però un errore mio, nel senso che mi è caduta una giacca, si è avviluppata nella ruota e con la pressione ha buttato fuori l'occhiello. E da lì ho avuto diversi problemi, sia con la forcella, perché poi ho rotto l'occhiello anche dall'altra parte, che con il portapacchi dalla swirly, di cui non so se consigliarlo. Io ho avuto problemi, magari è stato tutto originato da quel peccato originale che ho fatto all'inizio, però poi ho avuto un sacco di problemi. Si è rotto in diversi punti, l'ho dovuto far saldare diverse volte. Altri problemi che ho avuto sono stati con i mozzi, che sono i Shimano Dior. Secondo me non sono robusti a sufficienza per un viaggio di lunga durata con tanto abuso, diciamo, con tanto stress che dà un'avventura così su fuoristrada, su tanti salti che si fanno su sentieri. Ho dovuto cambiare l'asse e il cono del mozzo posteriore due volte. E poi ho cambiato due volte, due volte posteriormente, due volte anteriormente, le biglie dei mozzi perché si rompevano o si frantumavano o comunque si deformavano. Poi l'altro grosso problema che ho avuto con questa bici è stato i cerchi, che sono gli scraper. Come dicevo, la mia veniva con gli scraper 40, i40, da 40 mm, e dopo 2500 km le avevo già crepate in 15 punti, al che avevo contattato Genesis e praticamente non mi offrivano nessun supporto. Quindi questa è, diciamo, un attimo l'unica piega di questa bici qua, che mi sembra che Genesis non offre molto supporto al consumatore finale. Quindi è buono comprare una bici da un rivenditore di fiducia, come può essere bycafè.org, il negozio di Torino, perché comunque possono offrire un supporto post vendita. La Genesis non risponde alle mail, ai messaggi via Instagram, via Twitter, niente. Quindi comunque, niente. Come ho soluzionato il problema in Africa dei cerchi crepati, ho contattato direttamente WTB, che sono i produttori dei cerchi, e loro sono stati gentilissimi, mi hanno fatto un supporto ottimo. Mi hanno recuperato due cerchi in Africa, ho avuto la possibilità di ricostruire le ruote in Malawi, e poi purtroppo non erano state fatte bene, almeno quella davanti, ho dovuto ricostruirla poi in Tanzania. È andato tutto bene per circa 18.000 km, quando poi ho notato che anche i nuovi cerchi si erano crepati, cioè avevano una crepa dietro e una crepa davanti. Ho ricontattato WTB, che è comunque gentilissimi, mi avrebbero mandato due cerchi nuovi. Li ho comunque tirato avanti finché non sono arrivato qui, e praticamente adesso non so quante crepe si sono fatte, però saranno un'altra quindicina. E mi hanno mandato due cerchi che secondo loro sono molto più resistenti e più adatti a quello che sto facendo, che sono i Com Tough. Adesso li proverò e poi vi farò sapere. L'altro problema che ho avuto è che mi si è rotto un bullone del Regisella, dopo circa 22.000 km, e quello potrebbe essere anche un problema mio, perché può essere che non c'era la giusta tensione tra il bullone posteriore e quello anteriore. Quello non so, e poi comunque sono cose che possono capitare. Come avete già visto in alcuni video, il mio setup è abbastanza semplice. Dietro, sui forcellini dietro, ho due Anything Cage, che sono fissate con un bullone nella parte sotto e con due fascette plastiche nella parte superiore. E poi ho il portapacchi davanti, dove ho due borse della Hortlab, e poi c'è la borsa sopra e una dry bag infilata orizzontalmente tra il manubrio e l'altra borsa. E poi ho il frame bag e il saddle bag. Tutto abbastanza molto semplice, diciamo che è un setup con cui penso di continuare, ridurre forse le borse anteriori, però per il resto mi sono trovato molto bene. Per chi ha curiosità, i copertoni che usavo, il Schwalbi Nobby Nick, ci ho fatto 10.000 km, e poi ho danneggiato quello posteriormente, quello anteriormente ho fatto 14.000 km e ancora ce n'è. E adesso dietro ho trovato, poi in Bulgaria, quando mi si era danneggiato l'altro, ho trovato questo qua, questo butcher della Specialized, vediamo come va. È molto più pesante, può essere che duri anche molto di più. Quindi diciamo che sono molto contento della bici, è una bici molto divertente, soprattutto da quando si è sullo sterrato, sulla ghiaia, sulla sabbia. È una scelta che rifarei, quindi ringrazio ancora gli amici di BuyCaffè per questo regalo, per questa donazione. E l'unica pecca della bici, dico, è il customer service, il supporto clienti di Genesis, che non è proprio il migliore sul mercato, però come dicevo, se vi affidate a dei rivenditori, come potrebbe essere BuyCaffè, starete tranquilli anche per quanto riguarda il servizio post vendita. Niente, questo è tutto per oggi, per questa recensione della Genesis Longitude. Grazie per l'attenzione, se avete... mettete un like, se avete trovato il video interessante o anche un dislike, funziona anche uguale. Iscrivetevi, se non siete iscritti ancora al canale, pubblico in questo periodo tanti tutorial e recensioni di materiale che mi porto nel viaggio. È comunque più di quattro anni che sono in giro, 59.000 km, quindi un po' di esperienza questi materiali li hanno fatti, quindi vi posso dare delle buone dritte. E niente, ci vediamo alla prossima. Mettete anche il campanello per le notifiche. I video sono sempre in italiano, in inglese e in spagnolo, quindi se vi arriva la notifica che ho pubblicato un video in inglese, non preoccupatevi, se andate nel canale lo troverete anche in italiano. E niente, grazie per l'attenzione e ci sentiamo prossimamente. Ah, faccio due video a settimana da adesso, domenica, e un altro il mercoledì o il giovedì, dipende un po' dal tempo. Grazie, ciao a tutti.